La pistola Revolver 357 Magnum con matricola a Brasa che Angelo Maria, operatore scolastico di 52 anni, avrebbe utilizzato per uccidere la madre, Antonia Volpe, pensionata di 83 anni e poi per spararsi alla Tempia, è stata sequestrata dai carabinieri della sezione operativa della tenenza di Favara e verrà adesso inviata al RIS di Messina per le analisi di rito. Sequestrati anche i sei proiettili di cui due esplosi, le investigazioni dei militari dell'arma coordinati dal comandante della compagnia di Agrigento, il maggiore Marco Larovere, e della Procura non si fermano. Si sta cercando di capire, continuando a sentire familiari e conoscenti di madre e figlio, in che contesto possa essere maturato l'omicidio, premeditato con conseguente suicidio. Importanti, per provare a fare chiarezza, dovrebbero essere state le dichiarazioni dell'altro figlio dell'anziana, nonché fratello del suicida, un imprenditore edile di 46 anni. A trovare le salme dei congiunti, all'altra sera, è stato proprio lui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.